Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Ritorniamo naturalmente a parlare dell'emergenza coronavirus. L'invito è sempre lo stesso, quello di rimanere in casa per evitare il rischio di un contagio da coronavirus. Dunque ricordate che è necessario uscire solo in caso di reale bisogno, dunque per andare al lavoro, per andare a fare la spesa oppure per motivi familiari. Ovviamente vi ricordo che dovete sempre andare in giro qualora sia necessario muniti di autocertificazione. Parliamo in questa puntata di varie iniziative che sono state promosse ed ideate sul territorio della Valle del Calore. Partiamo da Roccadaspide per fare fronte alla carenza di mascherine e di altri dispositivi utili per scongiurare un contagio da covid-19. Il Rodary Club Roccadaspide Valle del Calore ha donato all'ospedale di Roccadaspide dei dispositivi di protezione individuale, di cui come sapete c'è grossa necessità anche del presidio ospedaliero rocchese, nonostante l'impegno costante dell'autorità sanitaria a garanzia di tutti gli operatori. Si tratta di mascherine, tute, guanti, calzari, gel disinfettante, fatti arrivare al sindaco di Roccadaspide perché ne curasse la consegna al personale dell'ospedale. Il gesto ha suscitato la profonda gratitudine del sindaco che ha scritto al presidente del club Rodary Roccadaspide Valle del Calore, Michele Labella, esprimendo a nome suo, dell'amministrazione e naturalmente dell'intera comunità, il sentito e convinto ringraziamento per il nobile quanto generoso gesto di solidarietà che il club ha inteso compiere verso il presidio ospedaliero di Roccadaspide. Per il sindaco Iuliano, nei momenti di grandissima difficoltà come quello che purtroppo stiamo vivendo, sono proprio queste azioni concrete, tangibili, utili, che danno la forza a tutti di continuare in uno sforzo collettivo, in un lavoro immane che tutti stiamo compiendo per cercare di arginare una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti dal dopoguerra, ma soprattutto per tutelare il bene più prezioso che è il diritto alla salute. Queste sono dunque le parole contenute nella lettera che il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, ha inviato al Rodari. Restiamo ancora in tema, parliamo però di sanità e in particolare di un presidio che viene rafforzato a Trentinara. Trentinara che è tra i comuni individuati dall'asla di Salerno quali sedi di unità speciali di continuità assistenziale. Si tratta di strutture allestite nei comuni già sede di un presidio di continuità assistenziale come appunto Trentinara. Nella delibera del direttore generale dell'asla di Salerno dello scorso 17 marzo, immediatamente esecutiva, i comuni, si legge, ospiteranno le specifiche strutture per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19. Per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria, le regioni hanno istituito le unità speciali, una per ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. A Trentinara la struttura sarà attiva presso la già sede del presidio di continuità assistenziale che si trova in via Manzoni e sarà attiva sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Ci sono poi altre iniziative che in qualche modo vanno incontro alle esigenze dei cittadini chiusi in casa, alle prese spesso con l'ansia che deriva dall'emergenza coronavirus. Un numero telefonico a disposizione delle persone bisognose di un supporto psicologico è l'iniziativa del piano di zona ambito S7 con sede a Roccadaspide. Dunque, in virtù di questo progetto, i cittadini che risiedono nei comuni dell'ambito che appunto dovessero avvertire la necessità di un sostegno di una figura a cui raccontare ansie e paure, possono contattare il numero 333 05 25 10. Dall'altro capo del telefono troveranno la dottoressa Lunzia D'Angelo, psicologa, che è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Il piano di zona S7 dunque invita tutti i cittadini a contattare l'ente per chiedere chiarimenti oppure supporto. Questo è quello che accade in particolare per quel che riguarda il piano di zona ambito S7. C'è poi l'iniziativa del comune di Aquara, che naturalmente approfitta per ribadire ai propri cittadini la necessità di restare a casa per scongiurare il rischio contagio da coronavirus, ma nel frattempo offre il servizio del ritiro dei farmaci presso la farmacia distrettuale, che può appunto avvenire tramite la protezione civile, chiamando il numero 389 24 41 464. L'obiettivo naturalmente è quello di permettere alle persone di rimanere in casa, come prevedono le disposizioni governative naturalmente, ma anche i provvedimenti regionali, e poi sicuramente andare incontro a quelle che sono le esigenze delle persone che hanno più difficoltà poi a spostarsi. Tra l'altro c'è una bella iniziativa che ancora riguarda Aquara, dove si registra un gesto di solidarietà che assume particolare valenza in questo periodo di emergenza. L'azienda Afrodite Natura di Anthony Scorselli e Angela Cola, che si occupa di cosmetici naturali, ha donato all'amministrazione comunale e ai concittadini dei flaconi di spray igienizzanti per le mani. Un gesto lodevole, si legge in una nota del comune, che rafforza in questi momenti difficili il senso di comunità. E restiamo ancora negli alburi, in questo caso però siamo adottati, perché in considerazione dell'emergenza coronavirus, che appunto, come dicevo poc'anzi, può creare uno stato di ansia in tutti, anche per rassicurare i cittadini, il comune di Ottati è attivato in un sportello telefonico di consulenza psicologica. Lo rende noto il sindaco Elio Guadagno, il servizio è realizzato in collaborazione con la società cooperativa L'Impronta, è gratuito, è rivolto a tutti ed è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20. Il numero di riferimento è lo 081-19-72-44-46. Da Ottati a Sant'Angelo a Fasanella si moltiplicano anche qui le iniziative a favore dei cittadini e tra l'altro i giorni scorsi il sindaco Gaspari Salomoni ha voluto scrivere una lettera, che poi è ovviamente circolata sui social, per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutti i cittadini. Sappiamo benissimo, si legge nella lettera, che non è facile cambiare le nostre abitudini improvvisamente, non poter uscire nemmeno per fare una passeggiata al sole, nella nostra meravigliosa piazza ortale, ma tutti sappiamo che è un comportamento indispensabile per la risoluzione del problema. Nella nota il sindaco ricorda che l'amministrazione è in prima linea al fianco di tutti i cittadini, in particolar modo delle fasce più deboli, per assicurare che siano garantite tutte le tutele necessarie. A tal proposito l'amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti e con il medico di base, ha ideato l'iniziativa che si chiama Io resto a casa, che consente di consegnare alle persone, soprattutto quelle anziane, la spesa a domicilio, oltre naturalmente ai farmaci. Per saperne di più potete consultare la pagina Facebook del Comune di Sant'Angelo a Fasanella, insomma anche per avere maggiori informazioni rispetto a come aderire a questa importante iniziativa. Ci sono e ci saranno tante altre iniziative promosse dalle amministrazioni locali, dalle associazioni, dalle aziende, dai singoli cittadini, per contribuire a superare nel migliore dei modi l'emergenza coronavirus e tutto quello che comporta. E noi naturalmente siamo ben lieti di raccontare questo aspetto dell'emergenza, quindi vi invito a segnalarci queste iniziative al nostro indirizzo email, che è infochiocciolavucidacilento.it. Grazie per l'attenzione e a presto!